Villetta svaliggiata a Torre di Quartesolo. I ladri sono entrati dalla finestra del bagno per poi dirigersi nella zona notte dove hanno arraffato monili in oro, diamanti, un Rolex del valore di 8 mila euro, un orologio marca Cartier del valore di 3 mila euro complessivamente. I malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino stimato di circa 20 mila euro. Ladri in azione anche in una villetta in città a Vicenza. Qui i malviventi dopo aver forzato alla finestra della cucina hanno portato via gioielli per un valore di 1000 euro.